L'attenzione non cala a Manduria nel Tarantino sulla riserva naturale Salina dei Monaci in relazione al progetto del depuratore consortile di Sava Manduria con scarico a mare di refli, un aspetto molto criticato e oggetto di polemica e dibattiti negli anni. In difesa di questo luogo è tornata anche Romina Power, poco dopo si è spostata nell'area naturale protetta in località specchiarica dove era previsto ed è tuttora possibile lo scarico a mare di circa 10.000 metri cubi al giorno di acque di fogna. Vorrei lanciare un appello che qualcuno si interessasse a preservare questo mare così com'è perché noi ce ne ricordiamo solo d'estate però questo mare deve rimanere pulito sempre. Si è creato un fragile ecosistema qui per cui sopravvivono e nidificano dei fenicotteri rosa che hanno bisogno di un particolare habitat. Non si può distruggere questo perché una volta distrutto come si ricrea questo ambiente? Ce lo invidiano in tutto il mondo, la Puglia la stanno riscoprendo tutti, anzi quest'estate l'ha scoperta tutta l'Italia, ha scoperto la Puglia. È troppo bella. L'alternativa è che ogni paese dovrebbe avere il suo modo per smaltirlo e non convogliare in queste vasche enormi, vari paesi, cioè ogni centro dovrebbe avere il suo e poi vanno smaltiti non scaricando, cioè sì depurandoli però non poi scaricandoli in mare. Possiamo ancora fermarci, siamo ancora in tempo. Ci sono come ha detto la signora Paolo dei metodi alternativi anche internazionali da poter attingere come studio di fattibilità nel nostro territorio. Noi ci batteremo affinché a Torre Columena nel mare di Specchiarican in questo stupendo mare Ionio non si scarica in mare ma si scarica in fossi oppure si scarica per rimpinguare le falde, per innaffiare la nostra agricoltura che ha sete, è inutile che ci vengono a raccontare frottole.